non rompere? si è facile no? ce l'hai un piccone buono? si no al mio via eh non prima mi raccomando prese le pozzone di forza ultra cannone ma tu sembri sempre più sgangherata Anna io non so cosa dirti e non lo so parli strana stai per morire cioè dimmi cosa deve succedere così mi preparo non lo so stai per morire si o no? si cosa vuol dire vieni qua ma che succede? non lo so no 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 non lo so mi parla strano mi preoccupo cosa stai commirando? ma che senso ti parlo strano? eh non lo so è la voce strana è colpa del caldo ma quello perché c'ho lo sai? la stupidità? la chat mi sta ricordando che Alex doveva mandarmi la foto